giovani buongiorno e ben ritrovati sul canale di neapolis 1926 per prima cosa iscriviti al canale è gratis aggiu ci risiamo aggiornamenti di fantacalcio sì perché è finita la seconda giornata e andiamo a vedere cosa è successo allora io ve lo annuncio è successo qualcosa di incredibile poi dopo guarderemo la classifica ma la mia partita è stata clamorosa anzi anzi c'è stato un busio grosso per noi detto questo andiamo a vedere andiamo subito a vedere allora partiamo subito con i pendolini Manchester City 0 a 2 per il Manchester City ora andremo anche nel dettaglio a vedere allora lui ha Falcone due gol subiti poi c'ha Meret di là il Manchester City Meret porta in violata pensiamo perché a lui gli è segnato anche Zappacosta a lui però c'è il gol di Di Marco vabbè prende 9 e mezzo con la però com'è fatto a fare quanti punti ha fatto scusami un attimo perché gli entra in Dica e comunque ha vinto 77 a 65 e mezzo 67 0 2 e il Manchester City vola ed è clamoroso ed è clamoroso addirittura questa immagina c'aveva Reuters assist Castro gol e tanta roba vabbè Caprile comunque poi è entrato al posto di di coso di Racellazzo il gol di Colombo lui ci ha messo Zappata Reitechi Luvumbo e ragazzi chi ha giocato con i giocatori della davanta questa settimana l'ha preso bene bene in quel posto eh ma l'ha preso veramente bene in quel posto comunque qui 2 a 0 atletico mistero i social mooc che erano a punteggio pieno come noi nella scorsa partita perdono 2 a 1 con Savic contro Sommer 1 prende 4 e 1 5 Tavares gli fa assist Gosens gli piglia il giallo buongiorno 6 e mezzo Martin 5 e mezzo di qua però se non sbaglio ah no perché ha messo la formazione a 3 non l'ha messa con la difesa a 4 perché se noi ci abbiamo il modificatore poi Pulisic da un lato strefesa dall'altro vabbè poi gli segna poi Ampalo ma poi Ampalo praticamente gol fatto ma ha sbagliato il calcio di rigore quindi non prende nulla e Adams il gol però lui c'ha nei resti in banchina ah poi c'ha 2 ah c'ha l'assist del Nico Paz vedi modificatore difesa 1 e quindi l'atletico mistero vince se non erro la prima partita di questo fan da calcio 75 e mezzo a 66 e mezzo beh vabbè i social mooc ci potevano fare poco questa volta poi andiamo avanti qui si chiama S stronzi ma sarebbe da dire Juventus partizante grado allora lui l'unico che non c'ha la S stronzi è il portiere e addirittura si è fatta l'asta sul fantacalcio qui praticamente c'ha tutta la Juventus ma vi faccio vedere di là gli ha segnato solo Di Bala questo con un gol se l'è portato a casa e ragazzi se l'è portato a Bremer 7 non ci capite Bremer come fa ad aver preso 7 contro il Napoli che è una partita inutile ah ditelo ai Juventini viste che abbiamo dominato Bremer prende 7 quindi qualcosa avrà fatto Bremer no? detto questo Bremer cambiaso 6 e mezzo Turam senza voto Kockmeiner 6 Gildiz 6 Vlaovic 5 Gonzales 5 e mezzo lui di là c'ha il gol di Paolo Di Bala in panchina c'era Provedel vedi lui aveva Gollini perché se metteva Gollini gli aveva preso 7 qualcosa poteva fare ma non penso che ci arrivava a 66 forse sì Savona Calulu Fagioli McCann prendeci a tutto l'attacco Juventino a parte pochi giocatori e poi tocca a noi tocca a noi tocca a noi facciamo così così non lo vedete così non lo vedete così non lo vedete così non lo vedete e così non lo vedete allora questa è stata una partita thriller guaiù allora io ho scuffetti in porta lui c'ha carne secchi e quando io vi dico guaiù io ho visto Atalanta coma e ho detto ma come cazzo figurati se il como fa un gol e mi ha fatto 3 3 guaiù 3 3 e mezzo ha preso carne secchi 3 e mezzo praticamente quello che ha preso scuffetti pari pari e qui ce la siamo giocata a pari poi aspetta che alza la telecamera perché se no voi fate i furbi e vedete allora linea difensiva con Teo Hernandez che gli prende 6 bastoni 6 io c'ho Martinez quarta 5 e mezzo per quel fallo che ha fatto fuori l'area di rigore contro la Lazio da lì non è più aumentato Martinez quarta e poi c'è Cerebi 5 centrocampo e qui c'ho Busio io c'ho Busio Busio mi ha fatto vincere il fantacalcio Gaidano 6 Loftusik 6 Cialanoglu 6 con il giallo 5 e mezzo Malinoski 6 poi c'ho il gol di Busio intanto arrivano le notifiche di Youtube dovevo togliere tutte le notifiche vabbè non fa niente poi in post editing vediamo se li riusciamo a levare Busio che mi prende 7 con il gol va a 10 lui c'ha Deron 5 4 e mezzo per via della munizione Nicolo Barella che si è infortunato dovrà stare fuori un mese o aiù e vado a 6 e mezzo e lui c'ha Ederson 5 e mezzo Dalinga non ha giocato ah io c'ho pure l'assist di Lautaro Martinez c'ho l'assist non me ne ero accorto però lui c'ha il gol di Krustovic il gol di Krustovic e il gol di Lukman c'ha 2 gol c'ha 2 gol ne tenne 2 ci ne erano 2 e guardate un po' guardate un po' come va a finire questa partita a me mi entra Rucca con il 5 e mezzo e il Ragneri con il 6 a lui però gli entra Colasinac 5 e mezzo autogol 3 e mezzo signori questo è il risultato 66 e mezzo a 65 quindi noi questa partita l'abbiamo vinta per un punto e mezzo questo per 0-5 anzi per un punto per l'autogol di Colasinac non pareggia la partita ci rendiamo conto? il busio di culo che ci abbiamo avuto questa giornata e poi ci andiamo a vedere pure la classifica la classifica ci porta in questo modo fammi vedere la classifica classifica andiamoci a vedere subito la classifica e signori miei signori miei FC Neapolis primi siamo primi l'unici a punteggio pieno 6 punti Manchester Simi 4 Atletico Mistero 4 si fermano i pendolini i social moch e i partizan degrado che vincono la prima partita Longobarda e AS Stronzi ancora 0 la prossima noi ce l'abbiamo contro l'AS Stronzi potremmo sganciarci non so quegli altri come sono allora Atletico Mistero volevo vedere la cosa ma calendario così guardiamo un po' il calendario calendario allora allora terza giornata noi come detto con l'AS Stronzi Manchester Simi Longobarda quindi non è uno scontro diretto i social moch i pendolini è uno scontro diretto lo sapete che non mi ricordo forse ci hanno 4 punti non lo ricordo partizan degrado dell'Atletico Mistero uno ce ne ha 3 uno ce ne ha 4 quindi poi la prossima è contro il Manchester Simi attenzione attenzione che già dalla fra due giornate potrebbe essere clamoroso dovunque questo era l'aggiornamento di Fanta Calcio fatemi sapere voi cosa avete fatto voi in questa giornata di Fanta Calcio e io vi ricordo di iscrivervi al canale sempre e comunque forza Napoli ciao ciao a you